Allora, diciamo che c'è andata di molto bene, ok? È andata di molto, di molto bene, perché ragazzi si è costruito pochissimo. Però, ragazzi, bisogna andare dritti così, bisogna fare punti, tirare a fare punti. Il calcio è un gioco semplice, va bene? È un gioco che si vince con i gol, non con fiocchettini in testa. Il calcio è fiocchettato, a me non interessa, io voglio fare punti. Così, come dovevi farli contro il Monza, l'hai fatti oggi. È vero, le azioni non sono per niente positive, perché poi le azioni da gol, ragazzi, quello che si crea davanti è poco o nulla. Si era visto, peccato, anche un Cabral molto più motivato, molto più in fiducia rispetto a qualche mese, qualche settimana fa, e quindi gli faceva bene. Adesso, guarda caso, è uscito perché probabilmente ha preso una storta alla caviglia e si è fatto male anche lui. Speriamo non sia nulla di grave. E le azioni offensive, ragazzi, sono veramente improvvisate, perché si è andata a snocciolare anche gol, ok? Vabbè, il secondo sul rigore, su un braccio preso, a parte anche loro uguale, eh? Dodò in due minuti aveva fatto crollare non solo la Fiesole, ma anche l'albero azzurro. Però il primo gol, quello di Saponara, anche lì azione confusa, azione che vedi che c'è poca roba, ok? A centrocampo, ragazzi, oggi, a parte Buonaventura, che per me ha fatto una grandissima partita, una grandissima partita, però poi siamo stati poca roba, siamo stati robetta, perché Bianco, che comunque non l'avrei tolto, o almeno l'avrei tolto subito al 45esimo, non ha fatto la partita vista contro il Monza. Così come Duncan, a me questo Duncan non piace per nulla, mi sembra il gemello cattivo dell'anno scorso. Se deve giocare così, non so se sta giocando per convincersi italiano a trattenerlo in questa finestra di mercato, o meno, fatto sta che questo Duncan non ci serve, va bene? Castrovilli gli ha fatto fare tutto un tempo, non ha giocato neanche malissimo, però si vede che è lontano, un miglio dalla condizione ottimale. Comunque, presi singolarmente c'è tanto da rimproverare, anche con E, che poi non è mai supportato, tra l'altro, quindi un N è anche troppo colpa sua. Vuoi la difesa, che molte sbavature e molte imperfezioni l'ha commesse, ci sono tante sbavature. Anche un Terracciano che mi è sembrato addirittura meno vispo di sempre, salvo un paio di occasioni che sono state molto positive, quindi diciamo che c'è tanto da migliorare. Però ragazzi, ripeto, contano gol, contano punti, questo Sassuolo avrà le sue recriminazioni, quello è quello che vorrà, ci avrà da recriminare tante cose, perché magari, ecco, cioè, a parte il rigore è la fotocopia loro, quindi c'è un po' da recriminare. Però sicuramente hanno costruito tanto nel primo tempo, si meritavano certe volte di anche passare in vantaggio, perché la Fiorentina nel primo tempo a me non è piaciuta quasi per niente, se non in qualche occasione. Però ragazzi, ripeto, nel calcio conta i punti, conta buttarla dentro. Oggi si sorride, poteva essere l'ennesimo pareggio, scialbo, brutto, inesistente, in colore, bene, che per una volta ci ha detto bene, quindi bene così. Andiamo, adesso si torna anche con la Coppa Italia, contro la Samp se non sbaglio, anche questa è una competizione a cui io tengo molto e spero di andare avanti, quindi speriamo che questo sia solo l'inizio di una carrellata positiva. Però c'è tanto, tanto da migliorare. A cominciare dal centrocampo, i ragazzi, mi dispiace dirlo, ma comunque sempre tanto in attacco. Bene per il gol di Nico Gonzalez, anche su sul rigore, si è visto bello pimpanto, un'esultanza un pochino polemica, ma alla fine ci sta. Basta sia di rabbia e voluta e speriamo che anche lui, adesso che si aggreghi alla prima squadra a pieno ritmo e ci porti valore. Forza Viola, ci vediamo domani, non solo con il Pagelone il giorno dopo, ma ci sentiamo e ci vediamo anche su Radio Firenze Viola, dalle 14 alle 16. Forza Viola e JM.